Anche da Pistoia in partenza è Vigile del Fuoco per portare aiuto alle popolazioni delle Marche. In quanti partite, con quali mezzi e dove siete diretti? Allora noi abbiamo una pianificazione della nostra corona mobile che ci viene organizzata dalla direzione territoriale che è da Firenze. E' strutturata così. Abbiamo una sezione operativa di nove unità che partono con tre mezzi attrezzati per affrontare le emergenze che sono successe con l'inversione terremoto. Quindi fondamentalmente la ricerca delle persone sotto le macerie. Abbiamo delle sezioni, questa sezione sarebbe chiamata in gergo tecnico USAR. cioè che USAR è un acronimo che sta per Urban Search and Rescue, quindi praticamente ricerca e soccorso delle persone in ambiente urbano sotto le macerie con una coadiuvata magari da unità cinofile e di altri comandi. I mezzi che noi utilizziamo sono dei mezzi dove ci permette di lavorare in ambienti confinati con attrezzature di soccorso tipo di varicatori, cesoie o mototroncatrici per tagliare il cemento armato o con motoseghe anche che hanno una lamme particolare, insomma tutte attrezzature specifiche proprio di questi scenari di intervento. E dovremmo essere diretti, non abbiamo ancora chiaro, sia verso nella zona di Amatrice, quindi nel Lazio o se nella zona di Arquata del Tronto o Accumuli, che sono due comuni delle Marche, subito di là dal confine, tra il Marche e il Lazio. È un problema di viabilità fondamentalmente quello che ci hanno spiegato, che stanno temporeggiando un attimo la nostra partenza perché sembra che ci sia solo una strada che è percorribile in quanto il terremoto ha distrutto parzialmente le strade principali tipo la via Salaria e altre strade della zona e quindi non è che la viabilità appunto non ci aiuta e quindi si andrebbe a rischio di fare tappo, quindi vogliono vedere un momentino come organizzarsi. Quanto durerà la vostra presenza sui luoghi del terremoto? Allora, stimare la presenza delle squadre di soccorso di Usar dovrebbe essere nei primi tre o quattro giorni proprio per la ricerca delle persone. Poi subentrerà una seconda fase con scenari molteplici di messa in sicurezza delle abitazioni, delle chiese monumentali e tutto quello che riguarda sono aspetti collaterali ma non secondari insomma delle scenari di sisma, la recupero dei beni nelle abitazioni che non sono completamente lesionate, ma ci sarà da fare tutta una serie di operazioni che presumo ci impegneranno per alcuni mesi con cambi alternati all'incirca ogni settimana. E' stato impegnato anche su altri luoghi che hanno visto distruzioni da parte di terremoti? Sì, dall'Irpinia all'Umbria, all'Emilia, all'Aquila, praticamente non me ne sono perso quasi nessuno. Oramai sono 35 anni e faccio questo lavoro e i terremoti ne ho visti sverati. Purtroppo ho visto verate scene brutte, belle, situazioni tragiche, non ho avuto la fortuna di salvare persone perché non sono mai stato in prima battuta, però ho vissuto tutte queste esperienze e sono un bel bagaglio. Qual è la difficoltà più grande di operare in contesti di terremoto? Ma dunque, in primis, la prima cosa da valutare è la continuità delle scosse e quindi andare ad operare in ambienti confinati, sotto porzioni di fabbricato che non sono sicuramente stabili perché sono già crollate oppure minacciano di crollare, però poi tu senti la voce delle persone che si lamentano e chiedono aiuto, quella è la cosa più difficile da affrontare. Poi, i scenari, purtroppo, quando si trovi di fronte alle persone, anche se non le conosci, però le persone decedute e quant'altro non è mai un bello spettacolo, insomma. Sono situazioni che lasciano abbastanza il segno. Siamo stati attivati immediatamente sia dalla sala operativa regionale unificata di protezione civile che dal Dipartimento di protezione civile nazionale che ha sede a Roma. Allo stato attuale, alla nostra struttura, è stata richiesta la disponibilità dell'invio di un elicottero di soccorso del 118. È stato inviato un elicottero, quel Pegaso 2, che ha base a Grosseto, che ha raggiunto il luogo dell'evento, che è il campo di volo, che è un aeroclub a Rieti, alle 10.54 di stamattina mattina. Ad ora ha già effettuato tre missioni di trasporto di pazienti a Roma, in vari ospedali romani, ed è lì a disposizione, credo in questo momento era il telefono, si stava alzando un volo per effettuare un altro intervento. Nel contempo anche il Dipartimento nazionale di protezione civile, che di fatto raccoglie quelle che sono le richieste delle regioni coinvolte, ha chiesto anche la disponibilità di posti letto intensivi regionali. Abbiamo fatto una ricognizione di tutti i posti letto attraverso tutte le strutture regionali e devo dire che c'è stata un'ottima risposta da parte della regione, si sta parlando di posti letto intensivi, sia adulti che pediatrici e anche specialistici, tipo neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia toracica, centro ustioni. Abbiamo messo a disposizione oltre 500 posti letto per l'eventuale ricovero di pazienti che vengono dalle zone colpite. Ultimo a non ultimo abbiamo messo a disposizione anche del Dipartimento di protezione civile che poi chiaramente rivolge anche l'eventuale offerta alle regioni coinvolte di questi nuovissimi mezzi di cui siamo dotati come centrale operativa da trasportare sul posto direttamente dell'evento ma al contempo che può risolvere attraverso la tecnologia elevatissima che ha a bordo anche tutti i problemi di radio e telecomunicazioni che si sa che in queste situazioni la fanno proprio da padrone, sono uno degli elementi di criticità dei soccorsi. Emergenza terremoto anche da Toscana, si sta muovendo la macchina della protezione civile e anche da Pistoia. Sì, siamo un'allerta già dalle prime ore di stamattina e volontari ce n'è tanti che hanno dato disponibilità insieme a mezzi e attrezzature. Si è avuto proprio da poco l'ok per la formazione della colonna regionale, ora sono in contatto alla sala operativa ANPAS regionale in modo tale da formare questa colonna con le varie specializzazioni che mi hanno richiesto. Quanti uomini e mezzi saranno impiegati e che tipo di intervento è richiesto da parte della protezione civile? Allora, quante persone saranno impiegate? Sicuramente si dice male perché ci stiamo organizzando per un evento come sarà abbastanza lungo, quindi stiamo registrando la disponibilità dei volontari anche fra 4-5 giorni, perché ci sarà da dare cambi a volontari che partono nella giornata di oggi. Quindi un numero, sono tanti volontari e tanti mezzi con tutte le attrezzature che si può vedere qui in pronta partenza. Sarà una cosa lunga, quindi c'è bisogno di pazienza e disponibilità dei volontari che tutto l'anno sono formati. È un periodo anche che per qualcuno è ancora un momento di ferie, però disponibilità ce n'è tanta. Che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare quello che tanti ci dicono che si sa fare bene, cioè il sopporto alla popolazione. Le prime ore hanno lavorato parecchio sul soccorso, ora andiamo sul supporto alla popolazione, che è quello che rimane proprio per lungo termine. Da Pistoria siete stati impegnati anche in altre emergenze, penso all'Aquila o in altre situazioni di questo tipo negli ultimi anni. Sì, da Pistoria siamo stati all'Aquila, siamo stati in Emilia, per quanto riguarda sisma, per quanto riguarda poi altre emergenze. Noi siamo comunque operativi tutti i giorni, 365 giorni l'anno, quindi qualsiasi tipo di emergenza si viene attivati. Noi siamo stati all'Aquila.